ecco vediamo di nuovo caccia terrorista vediamo vai vediamo che succede allora disarmare la bomba bomba questo è mio stavolta ce l'ho fatto questa volta a siamo a se perfetto se uno zero no no che cazzo mi ha ucciso grazie grazie mille vaffanculo è stato ucciso da un compagno bello un altro motivo per andarsene per conto proprio grazie mille grazie mille